Passiamo alla Polonia. Il regno dei Polacchi è testimoniato soltanto dal tempo di Ottone I in poi, vale a dire della metà del X secolo. In quel tempo questo regno era molto grande e passava anche un processo di grande espansione sotto il principe Miesco, il primo che è morto nel 992. Per lui era anche importante mantenere una grande indipendenza. E così questo regno stava in continua guerra con gli Ottognani, ma anche con Enrico II fino all'anno 1018. Sicuramente questo regno polacco aveva una grande tradizione che invece non è documentata con fonti scritte. Nella seconda metà del X secolo si faceva i primi passi di una missione cristiana. I primi missionari venivano dalla Bohemia. Furono chiamati da Miesco il primo. Lui invece cercava anche i contatti con i pappi, naturalmente per garantire una indipendenza dalla dinastia ottoniana. Ciò nonostante è interessante osservare che il processo di cristianizzazione si svolgeva anche in una grande cooperazione con la dinastia ottoniana. Lo vediamo soprattutto nella promozione dell'Arcidiocesi di Magdeburgo, che era un prodotto, una fondazione propria degli ottoni. Nel 966 Miesco fu battezzato e nel 968 fu creata, fondata, una prima diocesi a Posen. Nell'anno 1000, l'imperatore Ottono III concesse un privilegio pontificio a Gniesno per stabilire una propria infrastruttura ecclesiastica. E così si stabilì una nuova sede metropolitana a Gniesno stessa, un'altra diocesi a Cracovia. Osserviamo così una indipendenza politica, ma una grande orientazione verso la Chiesa Latina occidentale, soprattutto naturalmente verso il Papa. Ciò nonostante, fino alla fine del undicesimo secolo, è testimoniata una grande presenza del culto pagano. Facciamo un piccolo sguardo ai slavi del sud. Qui stiamo davanti a una cristianizzazione senza un proprio concetto missionario. E anche questo processo è più o meno sconosciuto. Sappiamo soltanto che i Serbi, loro si orientavano verso la Chiesa Bizantina per la religiosità popolare, sostenuta da Bizanzio. I croati, invece, loro arrivavano a una indipendenza politica per l'aiuto del Papa già nell'anno 880. Questo processo di cristianizzazione fu interrotto per le incursioni degli ungaresi, invece, dopo il centro della missione divenne l'Arcidiocesi di Salzburgo. Così osserviamo un chiaro orientamento verso la Chiesa occidentale, verso il Papa, ma anche verso l'Impero. Nella lezione scorsa abbiamo parlato degli ungaresi, ma soprattutto riguardo alle incursioni. Invece, dopo la battaglia su Lechfeld nel 955, cominciava un processo di cristianizzazione. Naturalmente, questo processo fu anche svolto dalla nobiltà ungarese per uscire della propria isolazione. per stabilire una propria cultura disponibile e capace a relazionarsi con altre unità politiche. C'erano delle proposte di cristianizzazione dalla Chiesa greca e dalla Chiesa latina. Invece, gli ungaresi davano la priorità alla Chiesa occidentale. E così, cavalieri tedeschi, immigranti ma anche missionari, si inserivano nella popolazione, nella cultura ungarese. Il principe ungarese di quel tempo si chiamava Weich Stefano, era sposato con una figlia di un ducca pavarese e così, legato al suo battesimo, cominciava anche un processo di cristianizzazione organizzato dalla diocesi di Passavia. Weich Stefano fu proclamato re dal papa, ma anche dall'imperatore. Weich Stefano riuscì anche a stabilire una sede metropolitana a Estricom, vale a dire a stabilire una Chiesa con qualche indipendenza dalla presenza imperiale. Osserviamo una cristianizzazione molto intensa, ma anche con grandi resistenze della popolazione. Soprattutto dopo la morte di Stefano, la cristianizzazione stava davanti a grandi problemi. Il successore era promosso dall'imperatore Enrico III, ma non fu accettato dal popolo. E così tutta la Chiesa ungarese entrò in un processo di grande indebolimento e anche il popolo tornò al culto pagano. Un ristabilimento della cristianizzazione della vita cristiana lo osserviamo soltanto alla fine dell'undicesimo secolo.